a bangalore incontro la seconda fantadonna del mio viaggio si chiama nomita chandi è moglie di un diplomatico ed anche lei come va lì ha dedicato la sua vita a ricucire quegli strappi che una società dalle impressionanti disuguaglianze sociali ha prodotto nella vita di tante famiglie nomita ha fondato ashraya una delle associazioni più attive in città che si occupano di donne e bambini il chai collabora con lei da molto tempo insieme a nomita lavora anche un gruppo di amiche intelligenti agguerrite che hanno fatto della difesa dei bambini abbandonati una ragione di vita quando si giochi i bambini ci stanno subito questo avviene in tutte le case del mondo ma qui siamo in un orfanotrofio e io sono un'estranea non è che questi bambini mi hanno visto la televisione la cosa che colpisce di più è il clima non c'è niente di deprimente i bambini sembrano sereni seguiti e sapendo che si tratta di bambini senza famiglia il risultato del lavoro dell'equip di nomita è impressionante anche perché la serenità non è un risultato che si ottiene una volta per tutte qui ogni giorno il personale deve affrontare una montagna di problemi ma soprattutto darci dentro con amore ed energia è questo l'ingrediente fondamentale e nomite le altre e lo fanno tutti i giorni da 29 anni a Grazie a tutti.